Buon venerdì 10 febbraio. Che sia una giornata di apertura, non di chiusura. Il Vangelo di oggi ci presenta un episodio, un miracolo. Il miracolo che dà udito ai sordi e la parola ai muti. C'è un sordo muto che, attraverso semplici gesti, Gesù riporta la pienezza dell'apertura nei confronti della relazione. È esattamente l'opposto della chiusura, che purtroppo caratterizza la nostra esistenza da molto tempo. Abbiamo un po' paura di tutto. È vero, qualche volta sciogliamo le nostre paure attraverso l'uso di aiutini chimici, in primis l'alcol etilico, ma a questo non serve, non ci sono miracoli, ci sono semplicemente suggestioni, interruzioni momentanee della chiusura. Una chiusura che ci porta alla introspezione esasperata, a guardare dentro a noi stessi, ma con una cecità crescente. Non sappiamo cogliere proprio dentro a noi stessi quella propulsione passionale verso l'apertura. Aprire occhi, orecchie, bocca, sciogliere la lingua, prestare attenzione alla sensorialità. Significa porci in una relazione che non ha paura, che si fida e si affida alla relazione stessa. Questo è l'insegnamento che traiamo dalla sapienzialità antica, il sentirsi in sintonia con l'intero universo. Basterebbe che ci sentissimo in sintonia con l'altro che incontriamo e attraverso questo incontro facciamo esperienza di qualcosa di molto più vasto e seppure misterioso. Quel vasto che ci circonda è intreso di bellezza che va al di là della nostra possibilità di percepirla completamente. Ma nonostante questo siamo chiamati a coltivare l'apertura. Le nazioni erigono confini, le nazioni si contrappongono, le nazioni altro non sono che arbitrari tracciamenti di confini su una terra che è di tutta l'umanità. E quando una nazione segna i confini definisce una chiusura. Anche nei confronti delle culture altre che caratterizzano la contemporaneità ci sono molte culture, ognuna delle quali è sicuramente incompleta, ma rappresenta una prospettiva interpretativa dell'esistenza a partire da un punto di vista, senza mai poter affermare di essere gli interpreti autentici della verità assoluta. Questa è la chiusura tra le nazioni. Poi vi è la contrapposizione dentro una nazione tra i gruppi culturali, politici, sociali, economici. Si riguarda l'altro con sospetto, con diffidenza, con un desiderio insano di combatterlo. Si perché il seme della guerra è innestato nel nostro cuore e si avvale della chiusura come elemento che ne favorisce l'emergenza. L'emergenza della guerra non riguarda solo l'aggressione di una nazione nei confronti dell'altra. Riguarda il nostro modo di porci dei confronti del prossimo. Oggi pertanto, anche in vista del seminario di domenica prossima, nel quale poniamo attenzione, approfondiamo, i temi dei pregiudizi che generano un atteggiamento di supponenza giudicante nei confronti del prossimo. Ma se non sappiamo cogliere i pregiudizi che ci sono in noi perché pensiamo di non avere pregiudizi, allora è evidente che ci poniamo in termini di assoluta chiusura nei confronti del prossimo. Oggi, come ci ricorda l'Evangelo, e lo sottolinea Papa Francesco in un commento di quel passo evangelico, evangelico. Oggi dobbiamo trovare il coraggio, la pienezza, la passione, anche la semplicità nella complessità della vita di aprirci affidandoci. Pensiamo alla nostra esperienza domestica, quotidiana, nei confronti di colui il quale magari dà segni di squilibrio, di intemperanza, anche di aggressività. Senza paura apriamo il nostro cuore in un atteggiamento di pacificazione autentica, cercando non di giudicare l'altro, ma di coglierne gli orizzonti di senso che lo spingono a quella chiusura. Perché la violenza, l'aggressività è contrassegnata dalla chiusura. Non cogliamo la sacralità che c'è nell'altro, cogliamo soltanto la nostra posizione chiusa in se stessa. Molto spesso accade che anche nella vita del club le persone, quando desiderano esprimere qualcosa di importante per se stessi, che riguarda la loro sfera intima, personale, chiedono un colloquio riservato. Cioè che cosa stanno chiedendo? Uno spazio confinato e chiuso, che immaginano si realizzi in una stanza chiusa, con le porte blindate. Molto spesso troviamo paranoici, che suppongono che vi siano spie che li controllano, si accertano che tutto sia in ordine intorno e che non ci sia nessuno a spiarli. Fa tenerezza tutto questo. E sicuramente in quell'atteggiamento paranoico c'è anche un grande dolore, una grande sofferenza, perché la chiusura ci isola. Noi non siamo venuti a questo mondo per l'isolamento, ma per la vita comunitaria. Lo dimostrano anche studi sui gemelli durante la gravidanza. A mano a mano che crescono il loro spazio si riduce, ma non innescano comportamenti aggressivi di respingimento dell'altro che occupa spazio. È stato dimostrato attraverso la ricerca che i loro gesti sono finalizzati, non intenzionalmente, perché non c'è ancora una coscienza intenzionale e volitiva e decisionare, ma spontaneamente rappresentano, attraverso lo studio delle immagini, gesti che tendono alla cooperazione. Siamo agli albori della vita e la vita nasce proprio da questa realtà di apertura nei confronti del prossimo anche laddove ci sia una restrizione degli spazi. Immagini oggi che tragicamente ci sono offerte purtroppo dalla tragedia del terremoto in Turchia, quando si scoprono persone decedute, le quali in un ultimo gesto si sono abbracciate. L'albeggiare della vita è la fine della vita, all'insegna dell'incontro, dell'abbraccio, vero, autentico. Ma quell'abbraccio per essere vero autentico richiede una disponibilità ad aprirsi. E facendo questo andiamo decisamente contro cultura, perché anche attraverso la privacy abbiamo istituito una dimensione esistenziale nella quale sostanzialmente diffidiamo del prossimo. siamo costantemente spiati da infinite telecamere che si disseminano nel territorio che percorriamo nel corso di una giornata. I nostri dati sono largamente accessibili un po' a chiunque. Riceviamo telefonate da numeri a noi sconosciuti, noi non abbiamo mai dato direttamente il nostro mondo. Però sentiamo che quella forzatura della nostra riservatezza diventa un nutriente della nostra paura paranoica. Ecco che allora ricorriamo a un diritto non ecologico, ma individualista, che fa troneggiare apparentemente appunto il privare, la vita della relazione, la privacy, privare, non arricchire. Certo ci vuole riservatezza nell'incontro con l'altro, ci vuole rispetto prima di tutto della sacralità che c'è in quella persona verso la quale, sacralità, ogni persona aspira. E quella sacralità non è né nel collettivo né neppure nella intimità della persona. È qualcosa che riguarda tutti e che è possibile cogliere solo se c'è una disposizione esistenziale verso l'apertura. Spesso ci si interroga se nel club si possa dire tutto. Io credo si possa dire tutto quello che ci si sente di dire, ma soprattutto nel club si deve far sì che le nostre paure, le nostre paranoie si lasciano fuori dalla porta. Dobbiamo fidarci del prossimo, per aprirci dobbiamo fidarci. Dobbiamo cogliere la parzialità della nostra interpretazione della realtà e allo stesso tempo essere consapevoli che anche gli altri hanno una interpretazione parziale, non esprimono mai nessun modo la verità assoluta, così come non la esprime a noi. Pertanto l'apertura richiede una dimensione esistenziale all'insegna del riconoscerci sostanzialmente ignoranti, ma assetati e affamati di conoscenza e di giustizia, perché la giustizia la possiamo coltivare solo se ci apriamo, se ci confiniamo dentro noi stessi. Coltiviamo soltanto rancore e rambarico. Per ciò che ci è stato tolto e allora in quello spazio confinato non stendiamo le nostre braccia per accogliere quelle dell'altro o dell'altra in una dimensione abbracciante, vera, autentica, senza paura, sia aprirsi senza paura, sia la disposizione d'animo che coltiviamo anche in questa giornata, predisponendoci a percorrere quel cammino di solidarietà, di amicizia, di amore e di rispetto nei confronti dell'altro che sono i fondamenti della vita del club, sono il messaggio che Udori ci ha consegnato. Noi non siamo qui a imitare l'esperienza di Udori. L'esperienza di Udori è stata la sua esperienza, il suo tentativo di aprirsi al mondo, di comprendere il più possibile, pur sapendo che non l'avrebbe mai compreso definitivamente, la multidimensionalità della sofferenza umana, vivendola attraverso proprio questa apertura autentica. Quando lei ha dato la mano a un alcolista, gli era data per tutta la vita, espressione usata spesso da Udori Mirudoni, c'era proprio questo invito all'apertura perseverante, non estemporanea di un incontro che poi finisce, è un incontro sempre che inizia, perché l'apertura implica sempre un inizio continuativo, senza mai un limite rispetto al quale definiamo un obiettivo, una finalità, un traguardo. Non ci sono traguardi nell'apertura. Nell'apertura c'è soltanto, come ci insegna il poeta, il cammino che apre cammino. E pertanto questo tema dell'apertura sia un oggetto di approfondimento che mette in discussione la nostra postura esistenziale, la nostra soggettività purtroppo tignosa e timorosa, perché se mi apro anche le risorse che mi sono state date in prestito le posso mettere a disposizione e condividere con il prossimo. Senza apertura non c'è nessuna possibilità di esistenza del bene comune, tanto richiamato, un po' da tutti, ma tanto osteggiato, anche indirettamente, dalla stragrade maggioranza della popolazione. Si parla del bene comune, ma non lo si vuole praticare, perché il bene comune ha questa necessità di apertura e non di chiusura. Mi tengo quello che ho, mi tengo la mia normalità, mi tengo la mia visione del mondo, non intendo aprirmi, anzi chiedo tutela rispetto alla mia vita privata. Liberi di essere schiavi nella dimensione privata e allo stesso tempo consegnati a una dittatura, sì, una dittatura che è improntata all'insegna dell'individualismo. La dittatura dell'individualismo, questa è la realtà che stiamo vivendo, un'idea piuttosto bislacca di come dovrebbe essere la vita. Rispettati nella nostra chiusura, ma attenti a non sconfinare oltre noi stessi. In questo insieme di chiusure non troviamo assolutamente la via maestra della libertà, che è appunto apertura nella dimensione relazionale. Buona giornata a tutti.